vivace equilibrato entusiasta testardo solare costante determinata energica serve tutto questo per creare una squadra ho parlato con molti candidati prima di selezionarli ma non ho dubbi perché loro ho visto la grinta giusta la voglia di non mollare sai che siccome le selezioni sono veramente dure ho dovuto creare un test da sottoporre a tutti quando mi dici che sei pronta io comincio sempre pronta via che andiamo ok via una parola che te descriva felice equilibrato vivace testardo solare costanza determinata energica e sempre positiva vivace equilibrato entusiasta testardo solare costante determinata energica che bella squadra una traversata da comma brunate al ritorno tutta di corsa tutta di notte carichi mi sembrano carichi e direi che hanno lavorato piuttosto bene ottimo perché servirà tutta questa energia per arrivare in cima il prossimo appuntamento sarà la partenza facciamo i bagagli un'altra parte